...milioni di euro grazie all'amministrazione di Conte che rischierebbe di tornare a spendere, a spandere con la sinistra che torna in Piemonte. Se si tornasse al voto il candidato resta corta, naturalmente. Matteo! Ah, ciao, ciao. Ciao Matteo, ciao Alessandro, è qui, siamo in tanti. Ciao, ciao. Un attimo, ma riusciamo a fare... Aspetta, aspetta. Riusciamo a fare tutto. Con un attimo... Tanto non abbiamo altre cose da fare. Ci mettiamo lì un attimo. Stop! Stop! Riusciamo a fare tutto. Ciao, che ti faccio un po' di strada. Nel caso di elezioni comunque siano in primavera o in autunno, quando saranno? Le elezioni ci sono quando finisce il mandato. Il candidato? Lo decideranno i cittadini con le primarie, ebbene certo, i governatori uscenti hanno la precedenza. Grande Matteo! Grande Matteo! Bravo, 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 bravo!